Mi chiamo Jacopo Rabolini, sono design lead a MIND. Ho oltre 15 anni di esperienza nella pregettazione di prodotti e servizi digitali. Principalmente mi occupo di design strategy, di user experience, utilizzando sempre l'approccio human centered design per i lavori dei nostri clienti. MIND è una design factory con una filosofia creativa integrata e multicanale, specializzata in pensiero strategico e design innovativo. Lavoriamo da lungo tempo con diversi clienti in ambito assicurativo e per loro sviluppiamo piattaforme dirette sia al cliente finale che per utilizzo più professionale, ad esempio per l'intermediario. MIND è una design factory, ci occupiamo principalmente di design e comunicazione. Per i nostri clienti offriamo i servizi di design strategy con cui definiamo tutte quelle che sono le strategie nella progettazione di nuove applicazioni e servizi. Ci occupiamo di user experience perché oggi è fondamentale avere sotto controllo l'esperienza che l'utente ha dei prodotti e dei servizi che la compagnia mette a disposizione. Ci occupiamo di digital design, quindi tutta quella parte relativa alle interfacce che vengono poi implementate e messa a disposizione di clientela e collaboratori. Ci occupiamo ovviamente di communication strategy, quindi manteniamo sotto controllo tutti quegli aspetti relativi alla comunicazione digitale e non solo. Infine ci occupiamo anche di engagement, quindi il lancio di nuovi prodotti tramite campagne di advertising, video e comunicazioni mirate. Dove possiamo intervenire per le compagnie assicurative? Dove il design può essere determinante? Innanzitutto nuove opportunità. Il design può essere un fattore guida fondamentale nello sviluppo di prodotti e servizi e può entrare in gioco fin dalle primissime fasi nella progettazione di nuovi prodotti oppure nuove funzionalità di prodotti già esistenti e più in generale in nuove opportunità di business. Dopodiché il design è utile per rinnovare prodotti esistenti. La tecnologia evolve molto velocemente e il design è parte fondamentale. Il nostro intervento permette di dare nuova vita a prodotti esistenti, rivedendo le funzionalità, flussi, interfacce e strategia, soprattutto su progetti a medio e lungo termine. Uno degli aspetti fondamentali per quel che riguarda il design è proprio il problem solving. Uno dei principali obiettivi di un'attività di design è risolvere i problemi degli utenti. È fondamentale quando viene individuato un problema intervenire con le opportune tecniche e metodologie sia che si tratti di prodotti già esistenti o che si tratti di problemi ancora aperti per il quale il mercato non offre ancora una soluzione specifica. In ultimo il brand è uno degli asset principali per ogni compagnia. Che si tratti di prodotti o servizi è importante che rispecchino e vengono valorizzati quelli che sono i valori acquisiti del brand, lavorando in piena sinergia con gli investimenti in termini di marketing, immagine, comunicazione e lavorando con tutte le strategie aziendali. Il nostro approccio posiziona l'utente al centro del processo di design. Cerchiamo identificare quali sono effettivamente i suoi bisogni, le sue necessità, le sue motivazioni, i suoi comportamenti e le sue abitudini. È importante quindi avere sempre ben presente questi aspetti durante tutto il ciclo di design. Normalmente le nostre fasi di design si possono raggruppare in tre aree. Abbiamo una prima area, la cosiddetta area di scoperta, in cui andiamo a identificare effettivamente qual è il problema che stiamo andando ad affrontare, sia che ci sia una spinta dall'azienda che una necessità lato utente. Dopodiché nella seconda fase andiamo a esplorare le possibili soluzioni a questo problema. Iniziamo a capire quali sono i flussi, le metodologie, le interfacce, i layout o le funzionalità che possono andare a risolvere il problema che abbiamo identificato per quanto riguarda l'utente. La terza ed ultima fase è quella della sperimentazione, dove andiamo a testare le diverse soluzioni che siamo andati a identificare e cerchiamo di capire che cosa funziona e che cosa non funziona, ricominciando il ciclo se necessario fino a quando non viene trovata la soluzione ottimale. Il design si pone quindi come un facilitatore di processi e fa emergere i punti di contatto tra l'utente, il business e il mondo IT. Per quanto riguarda l'utente è sempre bene tenere a mente qual è il problema che stiamo andando a risolvere. Per quanto riguarda il business invece è importante che la soluzione identificata sia sostenibile in termini economici e offra delle prospettive a medio o lungo termine. Per quanto riguarda invece il mondo IT è chiaro che la soluzione identificata deve essere fattibile in termini tecnologici e di costi. Quindi il design si pone tra questi tre pilastri e riesce a facilitare il contatto e le esigenze di ognuno di questi. Grazie mille per l'attenzione, se volete conoscere più in profondità quello che facciamo vi invito ad andare sul nostro sito mind.it. Grazie mille.